sembra la sigla marvel ma è la sigla di meme economics l'economia la finanza raccontati attraverso il linguaggio dei meme meme che facciamo noi quindi la responsabilità è tutta nostra sia che alla fine riusciate siamo riusciremo riusciti a divertirvi sia invece nel momento in cui voi non riuscissi ad avere neanche non riuscissimo a strapparvi neanche una smorfia partiamo allora partiamo con quello che di fatto è l'appuntamento più importante che si sta avvicinando a livello globale le elezioni americane il 4 novembre sempre più vicino trump contro biden solo che tutti sanno che faccia a trump mentre invece quasi nessuno si ricorda il volto di biden potremmo mettere fare anche un esperimento mettere un qualunque ottantenne americano accanto a trump dicendo che i biden e la gente probabilmente neanche si accorgerebbe della differenza ma è trump che rapisce ovviamente la curiosità e l'attenzione un po di tutti quanti e ce lo dimostra anche questo primo meme trump non è che abbia iniziato così bene la sua campagna elettorale perché di fatto ha iniziato dichiarando che il covid non esiste o quantomeno lo ha molto sottovalutato e ti ammali subito di covid alessandro borghese in quello che è un meme diventato leggenda sul web dice non è un buon inizio effettivamente e il problema è che poi una volta guarito insomma le cose non è che siano migliorate cioè magari qualcuno ha pensato o adesso magari ha capito che bisogna in qualche modo dare la giusta importanza a questo virus e invece no perché se andiamo a vedere il prossimo meme scopriamo che sostanzialmente le cose sono peggiorate e ci viene incontro alberto angela dichiari che la mascherina è sopravvalutata lo ricorderete a volte non voleva neanche indossarla durante gli incontri pubblici prendi il covid e cosa fai guarisci e ti togli la mascherina praticamente in bondovisione come direbbe alberto angela è una tragedia nella tragedia ma in fondo è giusto così in fondo è donald trump the donald captain carisma per qualcuno e quindi sostanzialmente è colui il quale viene dato per morto qualche mese prima delle elezioni americane e poi risorge come vi mostriamo anche nel prossimo meme e cioè come fa l'undertaker figura anche qui leggendaria del wrestling americano trump a otto mesi dalle elezioni viene dato per morto un mese prima delle elezioni ecco che risorge risorge ed è pronto a combattere anche a livello di dibattito televisivo ce ne sono stati il primo forse non ha entusiasmato però almeno un dibattito c'è stato perché voi direte beh ma come ci sono dibattiti ovunque no se andiamo a vedere il prossimo meme scopriamo come e questo c'è da dire che non è nostro ma ci piaceva ci piaceva molto american debates trump contro biden il dibattito in inghilterra e poi c'è anche il dibattito russo in cui c'è putin che guarda fuori dalla finestra la ricerca evidentemente di un avversario che però non è che però chiedo scusa non non c'è si vedrà ovviamente come andrà a finire questo queste elezioni soprattutto il mercato starà attento e cercherà di capire chi chi andrà a vincere anche perché c'è chi dice che ad esempio il nasdaq in generale wall street faccia il tifo per donald trump e il nasdaq c'è da dire che arriva da un periodo un po complicato insomma ha inanellato quattro sedute consecutive negative allora gli esperti hanno detto beh alla quinta non può ancora accumulare vendite sarà senz'altro in ripresa toccherà nuovi massimi e invece qui abbiamo strappato questa fotografia da un red carpet abbiamo l'attore che interpreta superman nel nell'ultime insomma negli ultimi nell'ultime edizioni appunto che hanno raccontato questo supereroe nasdaq pronto a nuovi massimi dietro c'è jason momoa nei panni che in realtà è l'attore che interpreta aquaman nei panni di nancy pelosi che fa muro ai repubblicani o meglio fa l'un lancia l'ultimatum ai repubblicani sugli stimoli fiscali ed ecco che a quel punto i mercati si sono fermati un'altra volta un'ulteriore seduta ribassista cinque sedute negative per il nasdaq non si vedeva da tempo in memore intanto però comunque ci sono titoli che all'interno del nasdaq viaggiano col vento in poppa vanno forte fortissimo forse anche troppo che è un po la storia del nasdaq del 2020 e forse avrete capito di quale titolo parlo e ci viene incontro Vince McMahon che è l'owner della wwe wrestling americano peraltro è anche quotato in borsa tesla 2019 più 40 per cento e come vedete c'è l'espressione di McMahon che dice beh però mica male terzo trimestre 2020 più 2,6 miliardi rispetto al 2019 nonostante nonostante il covid diciamo nonostante il covid tesla 2020 il titolo ovviamente più 400 per cento numeri pazzeschi roba extraterrestre come insomma sembra stia diventando appunto il personaggio in questione Vince McMahon che come detto è l'owner e il numero uno il CEO della world wrestling entertainment che appunto la federazione wrestling americano quota americana quotata in borsa insomma nasdaq che forse non è esattamente l'economia reale non rispecchia l'economia reale anzi togliamo forse non rispecchia appunto e c'è un'equazione che ci permette di descrivere questa questa cosa e cioè eccolo qua suarez sta all'italiano come il nasdaq sta all'economia reale per ricollegarci a un evento di cronaca recente insomma che ha visto l'attaccante uruguaiano che avrebbe superato l'esame di italiano attraverso così insomma metodologie poco cortodossa in maniera non proprio pulita se vogliamo l'attualità in realtà ci racconta anche altro a livello di numeri che non sono poi così diciamo che non ci convincono fino in fondo e in questo caso ci viene in aiuto un abitué dei meme cioè leonardo di caprio tutto il mondo entrerà in recessione lo sappiamo l'europa gli stati uniti insomma ci sarà un pil negativo e non soltanto ma killian murphy e nel film inception dice guarda che il pil della cina è più 4 9 per cento su base annuale gli occhi stretti di leonardo di caprio ci fanno capire che forse non c'è da insomma non lo convincono fino in fondo questi dati che arrivano dal dalla cina la cina mette un po tutti sotto pressione lo sappiamo stati uniti in primis ma non è l'unico paese sotto pressione c'è anche l'italia perché c'è un covid 19 da gestire e questa situazione insomma in qualche modo mette a dura prova giuseppe conte che ha lanciato nuovi lockdown mirati e allora beh insomma ci viene da fare da utilizzare questo meme allora abbiamo invecchiato un po gestire una pandemia mondiale globale non è stressante lo conferma giuseppe 56 anni che la sua verità ma a giudicare da questa fotografia sembra che invece ne abbia praticamente 90 insomma con l'italia che appunto apre a nuovi lockdown sembra quasi uno simolo ma in realtà è la verità vera e propria la parola lockdown peraltro ci fa tornare in mente un periodo che abbiamo già trascorso e cioè quello tra aprile maggio insomma anche fine marzo inizio giugno con determinate abitudini che forse avevamo dimenticato ad esempio vi ricordate le autocertificazioni sì perché sono tornate anche le autocertificazioni ora il timore è che ogni giorno vi dovremmo fare una nuova come accadeva appunto nel periodo lockdown e allora usiamo karate kid in una scena epica e anche qui leggendare del cinema anni 80 e non soltanto stampa autocertificazione strappa autocertificazioni ogni giorno ce n'era una nuova da fare speriamo che questa volta sia una e una soltanto in questo in questo caso peraltro il povero conte in questa situazione sicuramente difficile ha dovuto prendere anche decisioni chiamiamole così impopolari perché perché a un certo punto ha chiesto a chiara ferragni a fedez di aiutarlo a convincere i giovani che la mascherina è importante questo non è nostro questo meme ma ci ha fatto sorridere riesumando aldo giovanni giacomo conte chiede aiuto a chiara ferragni a fedez per far capire i giovani che devono usare la mascherina ma chi è che ti ha addestrato a te topo gigio battuta nel film così è la vita in cui giovanni si rivolge a giacomo puretti appunto nel momento in cui giacomo che interpreta un poliziotto lascia la pistola nel cruscotto e da quel cruscotto aldo che è il malvivente prende la pistola e lo mette sostanzialmente lo prende come ostaggio andiamo avanti perché un altro dei temi molto attuali da ricollegare al covid sicuramente è il mess quel meccanismo di aiuti che riguarda l'unione europea soldi che possono servire per irrobustire e sostenere la sanità la sanità di ciascun paese l'italia non ha ancora non ha ancora deciso di adoperare il mess di sfruttare il mess e questa cosa non piace ad alcuni alla posizione o comunque ad alcuni anche diciamo così italiani che si domandano e anche qui torniamo da Alberto Angela quando spendi 14 miliardi per fare il mess quelli sono i soldi che l'italia ha messo in questo fondo comune solo che poi non vuoi usare il mess e allora le divinità evocate erano incalcolabili tuttora sconosciute a noi evidentemente a qualcuno qualche moccolo viene da pronunciare pensando appunto alla situazione delle terapie intensive e degli ospedali che rischiano nuovamente di arrivare al collasso e siccome Giuseppe Conte l'abbiamo un po' preso di mira giusto prendere di mira anche il suo attuale nemico più forte più importante cioè Matteo Salvini questo meme l'abbiamo preso da The Vision che è un portale giornalistico di approfondimento ah non posso? No non potevi in riferimento a quanto quello che disse in una trasmissione di La 7 quando si era tolto la mascherina per parlare a una signora ma come non posso farlo? No non potevi tant'è che adesso siamo di fronte nuovamente a un nuovo lockdown per quanto sia mirato appunto e non totale dalle 23 alle 5 in Lombardia e anche in altre regioni. In tutto questo andiamo anche a vedere un po' quello che accade sui mercati perché evidentemente Matteo Salvini non ha capito bene tra dpcm e regole quali sono le appunto regole corrette da seguire ma anche il mercato non si capisce più nulla in particolare l'oro e questo lo raccontiamo attraverso quest'altro meme con Aldo e Giovanni e Giacomo non sa più chi è guardate qui abbiamo Giacomo nei panni del dollaro Giovanni nei panni dell'oro e Aldo nei panni del bund interpretano sostanzialmente i beni rifugio i mercati sono inquieti dice il dollaro serve trovare un nuovo bene rifugio e allora andando avanti c'è Aldo il bund che dice beh che problema c'è c'è l'oro oro puntini puntini l'oro vedete Giacomo fa già Giovanni fa anche la faccia di chi dice beh sono qui per favore impassi il formaggio quindi non lo considera proprio neanche più come bene rifugio tant'è che alla fine si chiude con la vignetta finale che Aldo il bund dice ci sarebbe il bitcoin che come sapete ha raggiunto fino ai 13 mila dollari e questa cosa insomma fa un po' arrabbiare l'oro perché l'oro siccome non sta crescendo quando i mercati scendono o meglio sale quando i mercati salgono scende quando i mercati scendono non si comporta più da bene rifugio ecco perché ci sembra quasi che sia stato in qualche modo messo da parte tra i beni rifugio e ad esempio si parla sempre di più di bitcoin che come detto è salito fin sopra i 13 mila dollari siamo sui mercati vediamo anche se l'oro raggiungerà i massimi nuovi massimi storici oltre i 2000 si parla anche di 2004 e anche se il Fuzzimib raggiungerà quei 20 mila punti che guardate anche Pablo Escobar aspetta oramai da tempo aspettava che il Fuzzimib tornasse sopra i 20 mila punti aspetta come se appunto il tempo si fosse fermato un'attesa estenuante così come estenuante l'attesa dei trader di coloro i quali hanno investito e hanno nel portafogli due titoli che aspettano da mesi da anni che abbiano un trend rialzista eccolo qui aspettava che Eni e Saipem avviassero un nuovo trend rialzista tantissime domande che ci mandate durante le nostre dirette ma quando è che Eni e Saipem torneranno a essere dei titoli forti insomma dato che al momento non lo sono affatto e beh tutti dicono che lo diventeranno nessuno in grado di prevedere quando questo è Memeconomics speriamo di avervi fatto divertire l'appuntamento è per la prossima puntata grazie e a presto